Musica Faida di Camorra senza fine, 46enne ucciso a Miano, l'omicidio nella roccaforte del clan Lorusso, il figlio della vittima era stato assassinato a dicembre, si segue la pista del regolamento di conti tra clan per il controllo dello spaccio di droga. Musica Casalesi, così Graziano, cerco ai voti di Zagaria, nuovi risvolti nell'inchiesta sul rapporto tra politica e clan nel Casertano, documentati gli incontri tra l'esponente PD e il capo clan, intanto Bassolino chiede l'intervento di Renzi nel PD Campano. Musica Contributi non versati, sequestro per taccone, la procura accuse il patron dell'Avellino di non aver versato i contributi ai dipendenti della clinica Santa Rita, congelati i conti corretti, un appartamento per 850 mila euro. Muore folgorato a 15 anni, genitori a processo ad Eboli nel Salernitano, fa discutere il caso di Michele Iannece, il 15enne che morì folgorato nel cortile di casa. Per quella tragedia ora i genitori sono accusati di omicidio colposo. Benevento, una città con la testa nel pallone, cresce l'attesa per la sfida contro il Lecce, al Ciro Vigorito che può decretare la storica promozione in Serie B dei Sanniti. Dai commercianti la richiesta al sindaco ordini la chiusura dei negozi per sabato pomeriggio. Primo maggio in piazza tra veleni e polemiche, dopo le contestazioni alla Valente a Napoli durante il corteo del 25 aprile, si temono nuove tensioni domenica per la festa dei lavoratori, i candidati decisi a partecipare. E questi erano i nostri titoli, buon pomeriggio, sono le 14.02 minuti in diretta per questa edizione regionale del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca, terzo omicidio in sei giorni, a Napoli si spara ancora. Aniello di Napoli, 46 anni, è stato freddato in via Gianfolla a Miano, è morto in ospedale ed è la diretta conseguenza della guerra scoppiata la settimana scorsa nel rione Sanità. Vediamo. Coro morto a Napoli è il terzo in soli sei giorni. A morire il pregiudicato 46enne Agnello di Napoli freddato a Miano in via Gianfolla nel cuore del regno del Russo. E la risposta all'agguato di martedì in cui fu ferito Walter Mallo all'uscita della tangenziale di Capodimonte. Ormai è guerra nel rione Sanità. L'agguato è accaduto intorno alle 22.20 di ieri. Con l'uccisione di Napoli salgono a 14 gli omicidi di Camorra nella prima metà del 2016. L'uomo è morto dopo il ricovero in ospedale. È stato crivellato da una pioggia di fuoco da due killer in azione a bordo di una motocicletta. Secondo la ricostruzione il 46enne pregiudicato con precedenti per droga e ricettazione era a bordo della sua auto a poca distanza da casa quando è stato raggiunto dai suoi assassini. Non è il primo omicidio che colpisce la famiglia di Napoli. Il 9 dicembre dello scorso anno infatti in via Miano a Piscinola fu ucciso Vincenzo di Napoli, 25 anni, figlio di Agnello. Sullo sfondo, allora come oggi, la lotta per il controllo delle piazze di spaccio della droga. Agnello di Napoli è ritenuto essere gravitante nell'orbita del clan Lorusso, nelle ultime settimane al centro di una feroce guerra di Camorra contro altri gruppi criminali, tra cui quello che sarebbe guidato da Walter Mallo, giovanissimo pregiudicato, imparentato con elementi di spicco del clan Licciardi, originario del rione Don Guanella, e lì ritornato dopo una parentesi nel quartiere Sanità. Il gruppo di Mallo si è fatto sentire e notare, tra stese e paranze nella zona, Walter Mallo è stato sparato ad un braccio in tangenziale appunto a Capodimonte. Una sequenza lunga e precisa, scandita da fatti di sanque, in continuo collegamento. E proprio nel rione Sanità, la scorsa settimana, c'è stato un altro ride di Camorra, due morti e tre feriti. Nel mirino il boss Vassarella e i suoi logotenenti. Un collegamento tra i due episodi? Ancora troppo presto per dirlo. Ma gli inquirenti, al momento, non escludono alcuna ipotesi investigativa. Incidente mortale sull'autostrada 1 all'altezza del comune di Pofi, in provincia di Frossinone, in direzione sud, un'auto ha tamponato violentemente un mezzo pesante e la passeggera, una donna di 46 anni, originaria di Giuliano, in Campania, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è morta. Lo si apprende dalla polstrada, il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo del veicolo a causa di un colpo di sonno. L'uomo, soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale, chiuso per un'ora il tratto interessato dall'incidente per i rilievi. Si sono registrati anche tre chilometri di coda. La cricca degli appalti truccati era in grado di veicolare i fondi pubblici. Emergono nuovi particolari nell'inchiesta che ha visto indagato il presidente del PD Campano. Graziano, sentiamo. Ancora nuovi retroscene nell'inchiesta degli appalti truccati a Santa Maria. capo a vetere che ha visto indagato il leader del PD Campano. Nei confronti dell'ex deputato ci sono prove schiaccianti. Stefano Graziano è stato filmato e spiato prima e dopo la sua elezione in regione. Da questi accertamenti emerge che lo stesso presidente del PD ha avuto due incontri con l'imprenditore dei casalesi Alessandro Zagaria. Uno prima del voto per il rinnovo del Consiglio regionale e l'altro dopo la vittoria alle urne per la corsa a Palazzo Santa Lucia. Ma non è tutto. Chiara la strategia della Procura di Napoli, quella di verificare il ruolo svolto da Graziano in relazione agli interessi dei casalesi e stabilire se ci sono stati interventi da parte del politico per favorire un gruppo di imprenditori e amministratori locali nella definizione dell'appalto del Palazzo Storico Teti Maffuccini. Un affare da 2 milioni di euro che faceva gola, secondo gli inquirenti, a due ditte del napoletano. Uscite vincenti dalla commissione di gara grazie a una tangente di 70 mila euro. E in questo quale sarebbe stato il ruolo di Graziano? Si sarebbe mosso a Roma per sbloccare qualcosa, per ottenere finanziamenti? Agli atti ci sono conversazioni, foto, video, che documentano gli incontri e i rapporti che c'erano tra il politico e l'imprenditore Zagaria. Dai documenti raccolti dai magistrati viene fuori anche un sistema in grado di veicolare i fondi pubblici. Una vicenda interamente ricostruita dai finanzieri e dai carabinieri che ha portato all'arresto del primo cittadino di Santa Maria Capoavetere e l'imprenditore dei Casalesi. E sul caso Graziano è di nuovo bufera nel Partito Democratico. Per il 5 maggio è stata fissata a Napoli un'assemblea regionale con il vice segretario nazionale Guerini. Intanto Bassolino su Facebook chiede un forte intervento di Matteo Renzi ed è scontro con i 5 Stelle. L'anatema di Bassolino si abbatte sul PD dopo il caso Graziano. Cosa altro deve accadere? Renzi intervenga con determinazione prima che il PD precipiti in un burrone politico e morale, denuncia l'ex sindaco sui social. Ma è caustico anche il commento di Roberto Saviano. Perché il PD si accorge sempre in ritardo di ciò che accade? Perché si muove solo dopo le inchieste? E mai prima? Si chiede lo scrittore di Gomorra. Ma sono stati seguaci di Grillo a sferrare gli attacchi più duri al Partito Democratico. Il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, ha ricordato come tante persone oneste votano PD. Ma è chiaro che questo governo non lavora per loro e tiene fede solo agli impegni con i grandi elettori. Noi non possiamo stare qui a stracciarci le vesti ogni settimana o a presentare emozioni di sfiducia ogni settimana perché il partito di governo viene coinvolto in questi scandali. L'unica cosa che possiamo fare è invitare i cittadini a liberare l'Italia da questo partito non votandoli più e sostenendo un progetto come il nostro, il progetto del Movimento 5 Stelle, che porterà onestà e trasparenza nelle istituzioni italiane. Ma è feroce anche la nota di sinistra italiana che ricorda i nomi di tutti i consiglieri regionali di maggioranza coinvolti a vario titolo in inchieste e vicende giudiziarie. Senza considerare, si legge nel documento, tutto quanto riguarda direttamente il presidente De Luca. Entrando nell'aula del Consiglio regionale campano, sottolinea il partito di Vendola, si potrebbe pensare di ritrovarsi in tribunale e di aver confuso palazzo del centro direzionale. Era stato sospeso dai pubblici uffici ma continuava a firmare atti per gare d'appalto e a svolgere le sue mansioni. Un dirigente del settore ecologia del comune di Caserta ha ricevuto questa mattina un divieto di dimora dalla Guardia di Finanza. Carmine Sorbo, 63 anni, è accusato di aver abusato dell'auto del comune ed anche dei buoni carburante per finalità private, servendosi inoltre come autista di un ispettore ecologico che lo accompagnava anche fuori regione. Andiamo a Ravellino. Contributi non versati alla Clinica Santa Rita sequestro per Taccone. Conti correnti, un appartamento del valore di 850 mila euro congelati dalla Procura nell'inchiesta sulla Clinica del Patron dell'Avellino. Vediamo. Monta ad 850 mila euro il sequestro dei beni disposto dalla Procura della Repubblica di Avellino nei confronti di Walter Taccone, noto imprenditore della sanità privata e patron dell'Avellino Calcio. Fino a qualche settimana fa era anche l'amministratore unico della società calcistica. Stando a quanto accertato dagli uomini della Guardia di Finanza della sezione di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Procura Vellinese, Walter Taccone per diversi anni avrebbe omesso di versare i contributi dei dipendenti della Casa di Cura Santa Rita di cui è proprietario. L'inchiesta sulla Clinica ha imposto il congelamento di conti correnti e di un appartamento per un valore complessivo di quindi oltre 800 mila euro. Il procuratore aggiunto, Vincenzo Donofrio, ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un totale appunto di 850 mila euro. Le misure scaturiscono da precedenti attività di verifica fiscale svolte nei confronti della società che gestisce la Clinica Santa Rita. Sarebbe stato accertato che quella società aveva omesso di versare i contributi ai dipendenti. Nei giorni scorsi si è appreso che lo scorso 8 aprile Taccone si è dimesso dalla carica di amministratore unico della società Biancoverde. Al suo posto è subentrato il farmacista Argenziano che è diventato unico amministratore. È bene precisare che l'Avellino Calcio non è oggetto di alcun sequestro e non è interessata ad alcune indagini della procura di Avellino. L'accelerata che De Luca aveva auspicato alla vigilia della visita di Renzi in Campania è arrivata. C'è finalmente la firma del Ministero dell'Economia sul decreto che sblocca i primi 70 milioni per il trasferimento delle ecoballe. Entro un mese comincerà la grande operazione di pulizia dei piazzali in cui è stoccato da nove anni quasi un milione di tonnellate di rifiuto secco. A giorni la firma dei contratti con le società che si sono aggiudicate i primi cinque lotti. Poi bisognerà aspettare via libera dei paesi dove finirà la spazzatura. Portogallo, Spagna, Olanda, Romania e Bulgaria. Il lotto 2 di Taverna del Re è stato assegnato all'associazione di imprese formata dalla Defiam ed Ecobuilding di Avellino mentre i lotti 5 e 6 andranno alla Vibeco Sirio Ambiente e Consulting di Saronno. Per liberare la nostra regione da tutti i rifiuti ci vorranno stimano gli esperti almeno tre anni. E andiamo a Eboli fa discutere il caso dei genitori di Michele e Iannici il quindicenne che morì folgorato due anni fa nel cortile di casa per quella tragedia ora i genitori sono finiti alla sbarra. Devono rispondere di omicidio colposo i genitori di Michele e Iannece il quindicenne di Eboli che morì due anni fa a casa sua al quadrivio di Campagna folgorato dall'impianto elettrico. Secondo i rilevi effettuati dai tecnici quell'impianto non era norma e per questo la madre e il padre del ragazzo Paolo e Alba Iannece dopo il dolore della tragica morte del figlio sono comparsi in tribunale a Salerno e ora devono affrontare un lungo processo. Alla sbarra anche l'elettricista del posto lo zio di Michele Giuseppe Iannece che si era occupato della sistemazione del quadro elettrico di casa insieme ad una quarta persona il trentenne Vito Mirra elettricista senza abilitazione. Per tutti a vario titolo il pubblico ministero Roberto Penna ha sollevato due capi di imputazione omicidio colposo e cooperazione in delitto colposo. Le indagini sono state svolte dai carabinieri a difendere la famiglia Iannece e gli avvocati Damiano e Costantino Cardiello a cui tocca il compito gravoso di impedire una condanna per due genitori già profondamente segnati dalla morte del figlio adolescente. La sera di quel 19 agosto Michele si trovava nel cortile di casa quando fu colpito da una scossa elettrica che non gli lasciò scampo. Il ragazzo venne soccorso e trasportato in ospedale dove arrivò già senza vita. I sanitari avvisarono i familiari e poi chiamarono il medico legale. La tragedia annientò i due genitori e la comunità intera di Eboli si strinse intorno alla famiglia. In memoria di Michele sono state poi realizzate numerose iniziative pubbliche e anche un torneo per tenere vivo il ricordo. In occasione dell'incontro tra Benevento e Lecce da alcuni commercianti in via ufficiale dal consigliere Luigi Ambrosone è giunta al sindaco del capoluogo Sannita la richiesta di un'ordinanza di chiusura degli esercizi commerciali per il pomeriggio di sabato. Abbiamo chiesto a cittadini e commercianti cosa ne pensano. Sentiamo. L'attesa c'è spasmodica nervosa imballata in una scaramanzia di rito che inibisce qualsiasi pronuncia alla vista di microfono e telecamera. Che il Benevento Calcio abbia un appuntamento con la storia se ne è accorta anche la politica proiettata invece sulla data del 5 giugno e tra loghi elettorali giallorossi richieste di maxischermo contatti telefonici con le più alte sfere istituzionali per risolvere le questioni di ordine pubblico come nei giorni dell'emergenza vera quella dell'alluvione ogni occasione è buona per fare un po' di propaganda. In via ufficiale il consigliere d'opposizione Luigi Ambrosone Pasdarandi una delle liste civiche di Clemente Mastella ha anche chiesto al sindaco Fausto Pepe di emettere un'ordinanza per disporre la chiusura straordinaria delle attività commerciali per il pomeriggio di sabato un modo per consentire a tutti di assistere allo spettacolo del Ciro Vigorito o un'inutile e ingiustificata paralisi dell'attività economica ammesso che ricorrono gli estremi di legge per l'adozione di un simile provvedimento su cui ci permettiamo di nutrire qualche perplessità abbiamo chiesto a cittadini alcuni gestori di bar lungo il corso Garibaldi cosa ne pensano chiudere proprio le attività commerciali non lo vedo anche perché diciamo si è vero che il tifoso viene solo per vedere la partita ma come la vedo io viene anche eventualmente per vedere la città per il benevento si per il benevento le partite si possono fare se devono concilare ambe e due le cose non esiste proprio che si chiudino le attività commerciali per un evento sportivo io il sabato non lavoro può fare quello che vuole se il sindaco lo dà l'ordinanza comunale si se la dà il sindaco se deve partire da me no non lo so se è una forma di propaganda c'è di fatto che possiamo anche lasciare liberamente i commercianti di decidere da soli io non aderisco perché purtroppo ci sono altre persone che non accettano le partite di calcio sono in giro per il corso o con i bambini o con le famiglie è un evento sportivo che non concerne l'attività culturale della città da Napoli Avellino e Benevento a Salerno e Caserta tutte le sigle sindacali CGL e Cisle Will scendono in piazza come ogni primo maggio ma non mancheranno anche questa volta veleni e polemiche CGL e Cisle Will si danno appuntamento alle nove e mezza domenica in piazza Calenda Forcella e per adesso è quella l'unica manifestazione autorizzata dalla questura non è detto che a quel concentramento non possa presentarsi pure Luigi De Magistris in vesto ufficiale da sindaco della città però il programma del primo cittadino ha ancora tutto da definire nel primo maggio dunque è previsto il recupero delle manifestazioni cancellate per il maltempo del 25 aprile in particolare l'esibizione di fanfare sbandieratori a Castel dell'Ovo e i fuochi d'artificio tricolori ma il rischio è sempre lo stesso e cioè che la festa si trasformi in un'occasione di polemica o di frizione o peggio ancora di scontro troppo fresco il ricordo del 25 aprile culminato nell'intolleranza nei confronti di Valeria Valente candidata a sindaco del comune di Napoli e aggredita verbalmente e intanto in Irpini ha un altro anno divise le categorie in piazza ci saranno solo Will e CGL che domenica mattina si incontreranno lungo il corso Vittorio Emanuele per porre l'attenzione su diverse problematiche che attanaiano l'Irpini e il Sannio a partire dalle questioni ambientali a quelle del lavoro proveremo a portare delle testimonianze di lavoratori di precari di pensionati di lavoratori che pensano di potercela fare che sono un gradino più vicino a quella che è la soluzione come questi della Isbus il primo maggio diciamo che è la giornata del lavoro per noi vuole essere anche l'occasione per denunciare quella che è la situazione drammatica occupazionale nella nostra provincia Un flash mob per dire basta alle morti sul lavoro è stato organizzato a Napoli da Fenial Filca e Filea della Campania e in piazza Trieste e Trento a pochi passi della prefettura per richiamare l'attenzione delle istituzioni dell'opinione pubblica e delle forze culturali sul tema della sicurezza dopo la morte dei lavoratori impegnati nella cava di Carrara sepolti dalla frana di un costone spiegano gli organizzatori la mancanza di sicurezza sul lavoro è una scelta di sistema e cancella di fatto il diritto ad un lavoro sicuro e giustamente retribuito durante il flash mob sono stati ricordati i due operai di Nola investiti da un tir la scorsa settimana sulla statale 7 bis a Salerno questa mattina la confcommercio ha celebrato ufficialmente la nomina del nuovo direttore Marone che ha subito lanciato un appello ai comuni al voto sentiamo una spinta a rendere sempre più confcommercio Salerno come la casa degli esercenti del territorio alla quale fare riferimento per ogni evenienza ma anche un rafforzamento delle relazioni istituzionali con le amministrazioni locali Nino Marone confermato alla guida dell'associazione di categoria salernitano traccia le priorità dell'azione della confcommercio ed è sempre più orientata ad essere un contenitore di servizi realmente la necessità per l'imprenditore di doversi rivolgere all'associazione Presidente a breve ci saranno le elezioni amministrative c'è una sorta di decalogo che l'associazione che le guida può fare ai futuri amministratori di qualunque colore politico che si siano Sì sì noi abbiamo una fantastica relazione con una serie di amministrazioni la priorità è quella di venire incontro al commerciante e quello di venire incontro al mondo del commercio e agevolarlo e migliorare la qualità dell'impresa il direttore generale Mariano Lazzarini parla invece di un giorno importante per l'associazione la cui priorità è spingere con forza sul rinnovamento la confcommercio si è rimessa in linea è una grande organizzazione la più grande organizzazione del territorio provinciale ed è pronta ad affrontare le prossime sfide sono sfide di innovazione sono sfide di promozione difesa del settore del commercio del turismo dei servizi sono sfide nelle quali ci misureremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni per rappresentare un'alternativa valida per le categorie commerciali torniamo ad avellino annullata la manifestazione centro per il centro questa mattina gli organizzatori hanno incontrato la stampa per lanciare un appello agli amministratori e chiedere spiegazioni perché lo scorso anno sì e quest'anno con il completamento della piazza libertà ci negano la manifestazione Marco Mallardo organizzatore della kermess centro per il centro non ci sta e chiede spiegazioni al comune questa mattina ha incontrato gli organi di stampa per chiarire alcuni punti e accusa hanno punito chi ha fatto bene il suo lavoro posso sottolineare che in una riunione precedente sua al comune insieme ad altre associazioni una consigliera ha detto che si sarebbe opposta al rilascio dei permessi di piazza Garibaldi perché la piazza non è collaudata allora il problema non è centro per il centro significa allora che bisogna chiudere la scuola bisogna che quella strada si chiuda perché se sono queste le motivazioni noi alziamo le mani ma allora significa che siamo stati a rischio anche l'anno scorso volevo sottolineare perché è giusto che sappiate che la manifestazione per il 99% è finanziata da privati quindi non va a toccare i fondi comunali a Benevento le piazze storiche distrutte dal degrado vediamo il servizio in pieno centro storico nei pressi delle principali bellezze e dei principali punti di ritrovo della città ci sono evidenti problemi a Benevento in piazza Ponzio Telesino quell'antistante al teatro romano tra gli attrattori più importanti della città la pavimentazione è ormai completamente sconnesse il basolato balla in più punti in alcuni proprio non c'è bastano pochi minuti sul posto per sentire più volte il suono delle mattonelle sconnesse che si muovono sotto il peso delle auto oppure gli pneumatici che finiscono nei fossi rischiando di rimetterci ammortizzatori o braccetti per i pedoni e per i ciclisti e per i motociclisti il problema è più importante perché rischiano di cadere a causa di quelle buche stesso discorso anzi situazione peggiore per piazza Reiki II più conosciuta come piazzetta Vari dove i sanpietrini sono ormai solo in pochi punti e ci sono voragini su voragini certo c'è da considerare che in zona interdetta la sosta e il passaggio delle auto oppure sostano e passano senza colpo ferire si interverrà a breve o almeno si immagina stante che entrambe le aree sono state inserite in una delibera di giunta comunale dello scorso 31 marzo avente ad oggetto per l'appunto proprio la ripavimentazione ma ogni giorno che passa che le piazze restano in quelle condizioni la situazione si fa peggiore innanzitutto per una questione di decoro ma anche per una questione pecuniaria quante di quelle auto di quelle moto che transitano e che finiscono nelle buche ai danni al comune Bullismo Salerno non mostra particolari problemi è un'isola felice al Teatro Augusteo è stata anche l'occasione per fare il punto sulle liste d'attesa per i centri di riabilitazione e il convegno dell'Anfas Le scuole di Salerno riescono a promuovere con successo l'inclusione lasciando fuori dalle aule il bullismo sono i risultati del progetto Bullismo Scuole e Famiglia presentati questa mattina al Teatro Augusteo di Salerno sono stati 150 questionari somministrati ai ragazzi di due istituti della città il Santa Margherita e l'Alfano I un progetto voluto da Anfas Comune Associazione Sorrisi Sparsi e in collaborazione con l'Università degli Studi del Sannio i risultati sono più che positivi soprattutto per quanto riguarda il bullismo perché i ragazzi non percepiscono situazioni di bullismo nella città di Salerno da premettere che questa è una prima fase di un progetto molto più ampio che avverrà nei prossimi mesi nei prossimi anni si evidenzia come la città di Salerno ancora sia una città diciamo così idilliaca perché i ragazzi per la maggior parte vivono in famiglie mononucleari con 4-5 persone a famiglia L'evento è stata però anche l'occasione per il presidente Anfas di Salerno Salvatore Parisi di fare il punto della situazione sulla vexata questio delle liste d'attesa per accedere ai centri di riabilitazione Dopo l'incontro avuto la settimana scorsa abbiamo ottenuto due cose importanti l'attivazione di due tavoli tecnici composti da Regione Asl quanto parlo di Regione parlo di struttura commissariale Asl e tre tecnici designati dalle associazioni per discutere fondamentalmente su due cose il 2014 e il 2015 e soprattutto un tavolo tecnico fondamentale quello sul fabbisogno e quindi sul problema delle liste d'attesa insomma dalla settimana prossima si inizia a lavorare e speriamo di portare risultati positivi E si chiude qui il nostro telegiornale vi ricordo che tra pochissimo c'è il TG Sport alle 15 torna in diretta l'informazione di 8 Channel e tutte le notizie le trovate come sempre disponibili sull'app 8 Pagine News scaricabile gratuitamente dai vostri telefonini e tablet e sul portale 8 Pagine.it Grazie per l'attenzione Arrivederci Grazie per l'attenzione